Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Eccoci di nuovo alle prese con il nostro smartphone e il corso Principianti 2020. In questo video parliamo dello sblocco del nostro telefono. Il nostro telefono deve essere protetto da una password. Non lo è sempre, perché alcuni di noi non amano questa protezione, ma deve essere protetto da una password, perché nel nostro telefono ci sono tantissime informazioni personali, perché il nostro telefono ha accesso ad applicazioni e quindi funzioni personali, quindi con la possibilità di mostrare dati personali. E dato che il telefono è protetto da una password, io posso accedere a queste applicazioni spesso senza dover inserire una nuova password. Quindi quando delle volte mi chiedete ma non posso mettere una password per le mie foto, non voglio che le persone vedano le mie foto. Le persone non vedono le nostre foto, perché per accedere al telefono c'è già una protezione. Ovviamente noi dobbiamo tenerla attiva. Se non la attiviamo è come uscire di casa senza chiudere la porta. La serratura c'è, ma tu non la vuoi chiudere. Ok, quindi adesso vediamo un attimo come gestire questa protezione che, ripeto, è obbligatoria da avere. Allora, vado in impostazioni, dato che si tratta di un'impostazione, beh, intanto riconosciamo questa impostazione e quindi questa protezione. Per cui quando io risveglio il mio telefono premendo il tasto di accensione, il telefono si presenta così. Posso far scorrere lo schermo e a questo punto il telefono mi dice usa la password o l'impronta. Vuol dire che io ho impostato nel mio telefono un PIN, ora se ne è andato, eccolo qua, un PIN, quindi un codice numerico, o l'impronta digitale. Con uno dei due sistemi io posso sbloccare il mio telefono. Ora sto cercando di sbloccarlo con l'impronta digitale, ecco fatto. Quindi, con l'impronta digitale, che è molto comoda, posso sbloccare il telefono, quindi non devo digitare password o ricordarmi password, anche se il PIN, la password del tuo cellulare, in fase di sblocco, devi saperla, perché ci può essere una situazione in cui ti viene chiesto per forza quel PIN e se non lo sai, devi azzerare completamente il telefono per tornare ad utilizzarlo. Quindi è una PIN, è una password molto importante. PIN o password? Il PIN è numerico, la password invece, eventualmente, se tu scegli la password, è anche una parola, può essere anche una parola. Quindi facciamo questa distinzione. Per cui io sul mio telefono ho impostato il PIN, perché è il primo di tutti, posso avere l'impronta digitale solo se ho un PIN, quindi ho impostato il PIN e poi lo sblocco con l'impronta digitale. Lo abbiamo fatto insieme in altri due video. Qui in alto sulla I e sotto, nella descrizione del video, quindi dove ci sono tutte le parole descrittive del video, trovi il link per andare a vedere il video che mostra come ho messo il PIN e il video che mostra come ho messo l'impronta digitale. Oggi ci occupiamo di un ulteriore modo che abbiamo per sbloccare il telefono, è quello del riconoscimento facciale. sblocco che io non ho mai voluto provare e lo proviamo adesso insieme. Quindi vado in impostazioni, vado in password e sicurezza, mi pare di ricordare, eccolo qua, password e sicurezza, per quanto riguarda il mio smartphone, che è un Redmi Note 7 con Android 10 in questo momento, quindi password e sicurezza, ed eccomi qua. Vedo che la password è attiva, quindi il famoso PIN. Vado a premere così ti mostro. Eccolo qua, qui per poter cambiare qualcosa devo digitare il PIN. Qui dice conferma la tua password, però in realtà poi qui mi mostra i numeri. Vuol dire che devo confermare un PIN. Se fosse una password a tutti gli effetti avrei una tastiera completa. Ok, vado ad inserire il codice. e poi premo avanti ed eccomi qua. Disattiva il blocco oppure cambia il blocco dello schermo. Vediamo cosa ho a disposizione. Il PIN o la password, appunto, e da me è attivato il PIN. Lascio tutto stare, tutto uguale, quindi torno indietro e vediamo cos'altro abbiamo. Lo sblocco tramite impronta, che mi hai visto utilizzare un attimo fa, e qui c'è il riconoscimento facciale che invece è disattivato. Voglio provare ad attivarlo e lo facciamo insieme per la prima volta per quanto mi riguarda. Quindi, torno indietro perché nel prendere in mano il telefono ho premuto qualcosa. Eccomi qua, quindi io ho il telefono in mano. Vado su riconoscimento facciale, confermo la mia password, perché tutte le volte mi chiede questo PIN, anche se lui si insiste a chiamarlo password. Perché per modificare le opzioni di accesso al tuo telefono, ora che è sbloccato, devi comunque conoscere il PIN, perché altrimenti una qualsiasi persona trovi il tuo telefono momentaneamente sbloccato, potrebbe modificarne il codice, potrebbe modificarne l'impronta facciale, l'impronta digitale, eccetera, e quindi potrebbe accedere al tuo telefono senza autorizzazione. Quindi una qualsiasi modifica di queste opzioni di accesso richiede l'inserimento della password o del PIN. Vado a scriverla, dico avanti, ed eccomi. Vediamo cosa succede. Aggiungi dati del volto 2D. Assicurati che tutte le parti del tuo volto non siano coperte da oggetti e siano chiaramente visibili. Il volto dovrebbe anche essere ben illuminato. Va bene, ci siamo. Allora, problemi di sicurezza. Il riconoscimento facciale è meno sicuro di codice PIN, password o sequenza. Il tuo dispositivo potrebbe essere sbloccato con la tua foto, così come da oggetti e persone che ti assomigliano. Chiaro? Ecco perché non ho mai voluto mettere il riconoscimento facciale. Però proviamolo, poi possiamo sempre disattivarlo. Bene, dico avanti. Avvio della fotocamera. Quindi sto aspettando. Eccomi qua. Basta. Semplicemente ho dovuto inquadrarmi e dico fatto. Ora, in teoria, il mio telefono dovrebbe riconoscere. Però qui vediamo cosa mi dice. Sblocca usando i dati del viso. Sblocca usando il volto. Oppure rimani sulla schermata di blocco dopo lo sblocco. E leggiamo meglio. Rimani sulla schermata di blocco dopo aver verificato il tuo viso. Scorri verso l'alto per aprire la schermata home. No, questo lo spengo perché voglio che quando il telefono mi vede vada direttamente all'interno del telefono stesso. Facciamo scorrere e siamo a posto. Qui dice consenti il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo usando il tuo volto ogni volta che lo schermo si accende dopo aver ricevuto una notifica. Questo potrebbe ridurre la durata della batteria. Ma no, stiamo così. Sono a posto. Quindi, in teoria, devo solo provare a vedere se va. Quindi, ho spento il telefono in modo che lui sia spento. Ora lo accendo e vediamo se semplicemente vedendomi si sblocca. Perfetto. Il telefono si è sbloccato direttamente. Proviamo a fare in un modo diverso. Ora accendo il telefono con la mia mano davanti. Vediamo se si sblocca visto che non è il mio volto. Il telefono non si è sbloccato. Notiamo qui in alto questa faccina. Vuol dire riconoscimento facciale. se lo giro beh, ora immagino ecco, il telefono si è bloccato ancora. Quindi, facciamo così. Riconoscimento facciale non è avvenuto. Giro il telefono verso di me ed ecco che il telefono mi ha riconosciuto. Proviamo ancora. Allora, blocco il telefono. Eccolo qui. Attivo lo sblocco schermo. Giro il telefono verso di me. Quando il telefono mi inquadra correttamente si sblocca. Beh, devo dire che è veramente veramente molto comodo. Però abbiamo visto che è un po' meno sicuro perché anche una tua foto potrebbe sbloccare il telefono. Voglio provare a fare una cosa di questo genere. Io nel mio schermo a fianco ho questa schermata. Ora vediamo se riesco a mostrartela. Eccola qua. Questa è la mia schermata di registrazione. Quindi io mi vedo mentre sto registrando il video. Ora la riporto al suo posto e voglio provare a sbloccare il telefono quindi a illuminare il telefono mentre mi vede nella schermata di registrazione. Vediamo cosa succede. Quindi mi vedi guardare alla mia sinistra per te alla tua destra perché sto guardando l'altro schermo. Eccolo qua. Sblocco. Non si è sbloccato. Vediamo se metto la faccia dritta per quanto riguarda la schermata. No. Non mi ha riconosciuto. Se invece inquadro me stesso vediamo eccolo qua. Si è sbloccato subito. Quindi non è detto che sia così facile fargli sbloccare il telefono in quel modo. Proviamo di nuovo. Provo con un'altra immagine. Sto guardando dove appunto ho le mie immagini per vedere se si sblocca. No. Non si riconosce. Quindi ok. Dice potrebbe essere meno sicuro ma tutto sommato lo è lo è abbastanza. Provo a sbloccarlo ancora perché è troppo simpatica questa cosa del telefono che si sblocca da solo. Se voglio disattivare questa opzione sblocco il telefono eccomi vado in impostazioni vado in nuovamente in abbiamo detto password e sicurezza poi vediamo un attimo sblocco eccolo qua riconoscimento facciale attivo e inserendo il codice posso disattivarlo. Inseriamolo diciamo avanti e sblocca usando il volto va spento e a questo punto non esiste più. Qui potrei anche dire elimina i dati del volto in realtà lo tengo perché penso che lo proverò un pochino lo sblocco con il volto anzi vado a riattivarlo subito perché per qualche giorno voglio provare ad utilizzarlo. Bene se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace ti invito a commentarlo con le tue esperienze o con eventuali domande ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella in questo modo sarai avvisato all'uscita dei nuovi video e ora puoi anche abbonarti al canale As Maggiolina per vedere i video riservati esclusivamente agli abbonati. Ci vediamo presto ciao Ciao